La prima volta che mi è successo, me lo ricordo ancora, è stato di una potenza tremenda. Mentre io tiravo fuori il gelato al cioccolato, all'improvviso è cessato di esistere tutto ciò che era intorno a me. Ho perso il senso del tempo, dello spazio e io ero il cioccolato. Poi guardo l'orologio e sono passate due ore. Mi prende l'ansia, mi sono perso. No, in realtà c'ero tutto, è quello il problema. Quando ci sei tutto, non c'è più tempo né spazio. Questa è la via del gelato artigianale. Tu diventi quello che fai. Quindi io sono il gelato, ich bin ais. Il gusto è un aspetto essenziale. Se io non ti do un'eccellente varietà di frutta maturata al momento giusto, posso venirti a raccontare che c'è dentro la frutta. Sì, però non si sente il sapore. Lavorare nel posto, avere le fragole di Schlinig, avere i lamponi del Parcillerhof, avere il latte della latteria di Dobbiaco. Anche lì c'è una ricerca. La qualità degli ingredienti è essenziale, non si può prescindere. Sono maestro artigiano, credo nell'artigianato come valore proprio di espressione dell'essere uomo. Ma il mio è un continuo stato di apprendistato. Cosa vuol dire? È 33 anni che faccio questo lavoro. Il momento più vantaggioso per me, per la mia crescita, diciamo, professionale, nel mio mestiere, è stato il momento in cui ho preso tutti i libri che parlavano di gelato e li ho buttati via. Li ho buttati via fisicamente e poi li ho buttati via dalla mia mente. Adesso prepariamo un gusto che ho chiamato Bombay Dream. Una preparazione di stile indiano, la ottengo cucinando il riso basmati, che è il riso tipico del nord dell'India, insieme a cocco, cannella, cardamomo, anice, finocchio in semi, un po' di cannella macinata, un po' di vaniglia, pepe, io uso una varietà del Sarawak, e olio essenziale di rosa bulgara. Queste ricette nascono come nasce una poesia. Quando la poesia viene, viene da sé, e tu sei in uno stato di agitazione, mi capita di scrivere, no? Devi avere una penna e devi scrivere. E straordinariamente quello che tu vuoi scrivere è già nella sua versione definitiva. È il successo di una ricetta dove ci sono molte, molte sostanze dentro, ognuna con il suo carattere personale, è che ognuno di questi svanisca. A servizio c'è un tutto completamente nuovo, dove in realtà ognuna delle sostanze conserva la sua unicità, però di fatto si crea un gusto nuovo. Quando noi pensiamo, per esempio, al latte, no? È un liquido bianco, ma se prendi un microscopio, vedrai che in realtà è un insieme di milioni o miliardi di esseri viventi. Allora io dico, io non uso degli ingredienti, ma mi rapporto con degli esseri viventi. Questo cambia la prospettiva di quello che tu stai facendo. Io sono umano. È una dichiarazione di intenti. In un momento storico in cui l'uomo viene sempre più ridotto a fare delle operazioni sempre più automatiche, mi rendo conto sempre di più che ho scelto un'altra cosa. Noi non siamo automi. Se qualcuno ci vuol far diventare degli automi, c'è gente che non vuole questo. Io sono uno di quelli. E' una cosa storica in cui è l'unico. Mi calma è un'estertante. Ogni un'estertante. Grazie a tutti.